Allora, lui è Giovanni Massini, c'è tutta una storia, una vita tra di noi, molto bella, perché nasce da lontano, prima che fossi medico, l'ho conosciuto. A te la parola. Mi ha conosciuto perché avevo 13 anni perché prendevo lezioni in inglese, perché il professor Cucini parlava inglese perfettamente, però poi mi ha viziato perché è diventato medico, adesso ho 67 anni, non prendo medicine e in vita mia ho preso pochissime medicine, perché il professor Cucini mi ha sempre indirizzato verso la via della guarigione senza ammazzarmi di farmaci. Vado in palestra, ancora faccio gli anelli, ancora faccio le parallele, il professore mi ha sempre detto non ti prendere nulla, io non ho mai preso nulla, sono sempre andato avanti con le mie forze, però questo è stato un guaio perché tu, io, ma iniziamo, nel senso che adesso se io vado da un altro medico non mi fido, non perché non mi fido della classe medica, perché Ivo per me è una figura particolare, se io ho qualche problema me lo deve risolvere lui, se no non sto tranquillo. Grazie.